Ciao, sono Paolo Capriotti, preparatore atletico e fondatore di OCR Training Lab. In questo video ti parlerò di indoor training e come sfruttarlo per l'allenamento OCR. L'inverno è ormai alle porte, fa freddo, a volte piove, tende a far buio molto presto. Tutte ragioni che portano gli atleti ad allenarsi molto meno di fuori, a correre molto meno outdoor. Proprio per questo motivo gli allenamenti indoor potrebbero aiutarti a mantenere quella frequenza, quella costanza di allenamento utile a mantenere il condizionamento aerobico in questa fase della stagione. In questo video voglio condividere con te alcune strategie per mantenere o anche migliorare la tua condizione aerobica grazie all'allenamento indoor. Se non sei in grado di uscire a correre all'esterno, la miglior soluzione indoor è sicuramente quella di correre su un treadmill o su un tapirulan. Tale strumento ti permetterà, appunto, di replicare l'allenamento che avresti fatto all'esterno su una palestra o comunque su uno spazio chiuso. Il mio consiglio, qualora decidesi di utilizzare un tapirulan, è di impostare delle attività tra i 30 e i 60 minuti. Questo intervallo di tempo ti permetterà di ottenere un buon condizionamento aerobico. Il vantaggio di utilizzare uno strumento come il treadmill è quello di poter standardizzare il tipo di lavoro. Ad esempio possiamo impostare degli allenamenti in salita, allenamenti in pendenza oppure fare dell'interval training. Il mio consiglio è quello di sfruttarlo soprattutto per lavorare sul fondo lento, quindi evitando l'alta intensità, cercate di fare dei condizionamenti prettamente aerobici. Un altro tipo di allenamento che si presta molto bene su tapirulane è l'allenamento misto, dove inseriamo una parte di corsa sul tappeto e una parte di esercizi a corpo libero. Tutto ciò ci permetterà di mantenere il condizionamento e di fare anche un adattamento o una simulazione alla gara. Un'altra ottima attività indoor che consiglio è quella del cycling, che sia attraverso una ciclette, una bike erg oppure con dei rulli montati su una bicicletta, l'attività di ciclismo indoor è un'ottima attività per mantenere un condizionamento cardiorespiratorio e anche muscolare. Di fare attività tra i 30 e i 60 minuti e variare quello che è la resistenza oppure il tipo di pedalata, pedalando in maniera più agile oppure in maniera più forte, così da condizionare anche la tua muscolatura. Anche qui ti consiglio di investire molto di più sul fondo lento che sull'alta intensità, proprio perché la bike si presta molto bene a lavori a bassissima intensità. Ci sono poi moltissime altre attività aerobiche indoor, come potrebbe essere il metabolic conditioning presente nel crossfit o nell'attivamento funzionale, o attività più aerobiche come ad esempio il nuoto in piscina. In questo periodo non è sempre facile uscire e fare attività all'aperto. Proprio per questo motivo ti consiglio, piuttosto che stare bloccato in casa e fermo sul divano, di inserire delle attività alternative, come quelle ad esempio proposte in questo video. La cosa importante è mantenere una certa costanza, una certa frequenza delle attività aerobiche, così da mantenere la condizione che abbiamo creato durante il periodo estivo e il periodo autunnale, così da arrivare al periodo di preparazione specifica pronti per allenarsi per le prossime gare. Noi ci vediamo al prossimo video, a presto, ciao! Noi ci vediamo al prossimo video, a presto, ciao!